Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata della nostra chiesa nella città. Siamo entrati nell'Avvento Ambrosiano, periodo che ci porterà a Natale. E quindi iniziamo subito con la celebrazione solenne preseduta in Duomo dal Cardinale Tettamanzi. Vediamo. Inizia l'Avvento Ambrosiano con due domeniche di anticipo rispetto a quello romano. E in Duomo l'Arcivescovo presiede la liturgia vigiliare della Domenica, peculiare del rito della nostra chiesa. Il Cardinale, che segue l'invito rivolto dal Santo Padre a tutti i Vescovi del mondo, celebra all'inizio dell'anno liturgico una veglia per la vita nascente. Di fronte a migliaia di fedeli, ai rappresentanti delle associazioni, dei gruppi, dei centri di aiuto alla vita, dei consultori familiari. E dice, siamo il popolo della vita e per la vita. Sì carissimi, iniziamo questo nostro avvento con l'annuncio che tutto ciò che è contrario alla vita sarà sconfitto. Tutto ciò che la disistima, la disprezza, la ostacola, la minaccia, la opprime, la rifiuta, tutto questo verrà meno. Perché, continua il Cardinale, a rimanere per sempre sarà soltanto la vita, secondo la notizia formidabile, come la definisce, della risurrezione di Cristo. Questo è il messaggio che ci viene da Cristo risorto. La vita sarà l'ultima parola della storia. Essa sola, la vita, trionferà su ogni cosa, anche su ogni male. Da qui l'appello che ha anche auspicio e preghiera del pastore. Perché la vita umana non venga mai strumentalizzata, sfigurata, viripesa, banalizzata, ossia mercificata, sfruttata, conquistata ed eliminata, comunque considerata in modo riduttivo o distorto, esige di essere onorata e trattata sempre come vita della persona. Poi l'intensa e partecipata lettura della preghiera per la vita, con le parole di Giovanni Paolo II, dall'enciclica Evangelium Nunziandi. Bene, rimaniamo nell'ambito della riturgia del rito, perché da pochissimi giorni è entrato in vigore nella nostra chiesa il Libro dei Santi, nuovo, il Santorale. Di che cosa si tratta? Lo vediamo insieme al responsabile del servizio liturgico, Monsignor Claudio Magnoli. È il libro per le letture che accompagnano la celebrazione dei Santi nel corso di tutto l'anno. Sono quelle letture che identificano, attraverso l'ascolto della parola di Dio, le virtù, le caratteristiche proprie di ciascun santo. Com'è l'ordinamento? Ci sono delle differenze rispetto a prima? Si segue naturalmente il lezionario, ma ci sono delle specificità? La specificità forse più appariscente è l'indicazione di tre letture, la lettura, l'Epistola e il Vangelo, per ogni grado di celebrazione. Precedentemente eravamo abituati ad avere le tre letture solo per la solennità e le feste, mentre attualmente anche le memorie hanno l'indicazione di tre letture. Il lezionario, sappiamo, si poggia su un nuovo calendario. C'è qualche novità in questo calendario? Segnalerei anzitutto nel calendario comune per tutti gli ambrosiani l'avere fissato al 18 gennaio la festa della Cattedra di San Pietro Apostolo, a differenza del calendario precedente che la prevedeva o il 22 di febbraio, se non era ancora quaresima, o già il 18 gennaio. Nel calendario proprio della Diocesi di Milano abbiamo inserito per richiesta dell'Opus Dei al 26 di giugno San José María Escrivá de Balaguer come memoria facoltativa e come sottolineatura di un sacerdote ambrosiano che ha fatto il parroco e poi è diventato eremita e grande traumaturgo presso il popolo il beato Manfredo Settala. Ancora in studio per una segnalazione che riguarda la Biblioteca Ambrosiana perché dal 25 al 27 novembre si svolgerà un Dies Academicus 2010 della classe di studi borromaici. Ebbene il titolo Carlo Borromeo è il cattolicesimo dell'età moderna, nascita e fortuna di un modello di santità. Voglio ricordarvi che giovedì 25 novembre alle 17.30 presso la Biblioteca Ambrosiana dove si svolgerà l'intero Dies di due giorni, in piazza Pio XII sarà presente il cardinale Tettamanzi che dell'Ambrosiana è gran cancelliere. E ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di Caritas e del rapporto non sempre facile tra volontariato, terzo settore e istituzioni. Un convegno importante a Milano, noi c'eravamo. Il volontariato c'è, è una ricchezza per tutti, ma nella programmazione delle politiche sociali qual è il suo grado di coinvolgimento e partecipazione? In Curia a Milano si presenta una ricerca realizzata da Caritas Ambrosiana intorno alle sinergie tra il cosiddetto terzo settore e istituzioni. Una realtà tra luci e ombre, come viene detto, certo con una grande voglia di essere attivi e presenti e sempre di più, e una difficoltà nei meccanismi della sussidiarietà. Politiche sociali e partecipazione si è infatti intitolata l'intera mattinata di studio promossa dall'osservatorio giuridico-legislativo della regione ecclesiastica Lombardia e dalla Caritas, sempre Lombarda. I vescovi italiani ad Assisi, è stato presentato il primo esito del censimento dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, che in Italia sono quasi 14 mila. E vuol dire che c'è presenza, c'è impegno, c'è testimonianza, c'è servizio, c'è gratuità, c'è volontariato e quindi c'è anche la partecipazione. Nel cammino per risolvere i problemi degli ultimi dei poveri, ma anche nell'elaborazione, dicevo, e nella decisione di che cosa fare, quando, dove e chi ha servizio degli ultimi. E se Don Roberto D'Avanzo ha evidenziato alcune problematiche relative alla concretezza quotidiana, come il piano sociosanitario regionale 2010-2015, che evidenzia, ha detto, una debolezza del principio di sussidiarietà, numerose sono state le chiamate in causa per i piani di zona, attivati dalle amministrazioni a livello comunale dieci anni fa e che avrebbero dovuto essere strumento privilegiato per coinvolgere la società città nel sistema locale dei servizi, ma che soffrono, lo si è sottolineato più volte, di una sorta di partecipazione soffocata. Il motivo per cui oggi ci siamo trovati a ragionare riguarda poi la possibilità, non soltanto per il terzo settore di togliere le castagne dal fuoco in situazioni in cui la pubblica amministrazione ancora non arriva o arriva male inadeguatamente, ma appunto la possibilità di considerare l'esperienza del mondo del terzo settore e anche dei gruppi di volontariato più informali, quelli delle nostre parrocchie, come un interlocutore competente, saggio. Abbiamo sentito nelle parole del Presidente della Caritas Italiana, Monsignor Merisi, l'auspicio di impegno, servizio, gratuità sempre più presente e allora voglio proporvi delle iniziative per l'avvento, proprio promosse da Caritas e dall'ufficio missionario della Dioce. Si sono proposte per un Natale di carità. Il sostegno è alle missioni ambrosiane, dove in Bolivia, ad esempio in Brasile, in Etiopia con progetti molto diversi, in Etiopia per esempio per dare acqua a tutti. Bene, tutti gli approfondimenti su www.chiesadimilano.it E adesso torniamo in qualche modo a Milano, perché in questi giorni si è svolta una dedicazione importante. Infatti la stazione centrale di Milano è stata dedicata a Santa Francesca Cabrini, che è la patrona degli emigranti. C'era il Cardinale Tettamanzi, c'era il Sindaco, molte autorità e soprattutto il Cardinale Tarcisio Bertone, che è il Segretario di Stato Vaticano. Ma noi abbiamo ascoltato l'Arcivescovo, che proprio a partire dalla figura di Santa Francesca Cabrini, dice qualcosa di importante per l'oggi. Sentiamo. La patrona degli emigranti ha lasciato una lezione e ha bisogno di allunni che la sappiano accogliere e realizzare nella situazione attuale. Che tutto sommato è la stessa situazione che gli italiani hanno affrontato quando sono emigrati, in particolare negli Stati Uniti. Là hanno trovato tante difficoltà, la difficoltà è sempre quella, quella della integrazione, certo conoscendo l'ambiente, rispettando le norme di una determinata città o società, ma il verbo che deve essere richiamato in continuità è il verbo, il termine, la parola da richiamare è sempre quella di integrazione. È una strada lunga, faticosa, difficile, ma io penso che sono convinto che è la strada che la storia ci consegna e quindi è la strada che chiede di essere con tanta saggezza ma anche con tanto coraggio percorsa e ripercorsa in continuità. Proprio per questo ogni cristiano, vorrei dire ogni uomo, deve esprimere la propria adesione al Vangelo, la propria umanità, proprio affrontando anche le questioni difficili e quindi affrontarle nel segno del coraggio. Abbiamo ascoltato il tema degli immigrati e continuiamo su questa frontiera del farsi prossimo, dell'impegno generoso, perché in questi giorni in periferia a Milano si è inaugurata una casa di accoglienza molto attesa. Noi eravamo lì, abbiamo seguito quel momento che è stato emozionante per i moltissimi, lo vedrete, parrocchiani della chiesa di San Martino in Villa Pizzone. Poi due persone molto impegnate sul campo, li ascolteremo insieme. I poveri sanno aiutare i poveri e una comunità di periferia come quella della parrocchia di San Martino in Villa Pizzone, anche se non ha grandi risorse, lo dice il suo stesso parroco, può diventare il luogo della speranza per rincominciare, per rifarsi una vita e una dignità. Grazie a una palazzina di due piani, Casa Mara, dove troveranno appunto casa per un periodo di tempo flessibile, dieci uomini senza dimora, tra i 18 e i 45 anni, che saranno accompagnati in un percorso verso la progressiva autonomia abitativa. A gestire il centro e ad aiutare gli ospiti, un'equipe di operatori e volontari composta da 15 persone dell'associazione CAST. E così a benedire la struttura e rivolgere il suo grazie alla comunità tutta riunita per l'occasione, arriva il cardinale Tettamanzi, presenti anche il vicepresidente di Fondazione Cariplo Enoch e il vice direttore di Caritas Ambrosiana Gualzetti. Se i poveri hanno iutini poveri, ritroviamo l'autentica e più bella ricchezza che la Chiesa del Signore può e deve far generare dentro il cuore dei cristiani. Insomma, un progetto sinergico nella logica di quel farsi prossimo, che significa che il bene va fatto bene. Come è per questo intervento? Reso possibile con il sostegno della Fondazione Cariplo, 411 mila euro, e con il contributo della parrocchia, 50 mila euro. Danari in virtù dei quali la Fondazione San Carlo, legata a Caritas Ambrosiana, ha potuto ristrutturare l'edificio di complessivi 272 metri quadrati. Questo è un miracolo della carità, oramai il Signore ce lo affida, perché quello che è stato fatto sinora è un qualche cosa di bello, ma diventa un qualche cosa di vero quando noi proseguiamo su questa strada. Casamara, con il suo bel nome biblico che richiama l'acqua che disseta, rientra nel progetto Emergenza di Moura, nell'ambito del quale prossimamente verranno aperte altre due strutture, a Varese e a Sesto San Giovanni. Noi avevamo questo edificio che era ormai in disuso e quindi abbiamo approfittato di questa occasione per rimetterla a posto, ma soprattutto per coinvolgere la parrocchia in un servizio che ci è sembrato anche bello per i parrocchiani che appunto si sono attivati per trovare volontari, eccetera, per poter dare questa ospitalità a queste persone. L'associazione Cast è un'associazione nata circa 30 anni fa dalla volontà di alcune persone di mettere in piedi una struttura in grado di accogliere persone appunto di grave disagio sociale. In questo momento stiamo unendo le nostre forze alla parrocchia di Villa Pizzone per creare un servizio che sarà in parte una continuazione di quello che è stata la nostra esperienza nel passato, quindi una seconda accoglienza e in parte una nuova esperienza. In questo nuovo progetto la volontà è creare, avere dei posti in cui persone vengono accolte anche per periodo di tempo limitato, quindi possono essere due o tre mesi. Delle persone che invece vogliono fare con noi un progetto che può durare un anno o due anni, quindi una ricerca di lavoro, un rinserimento sociale progressivo. Poi sempre, come la nostra associazione, ha a disposizione alcuni appartamenti che serviranno poi per il successivo passaggio alla terza accoglienza. Andiamo con le nostre immagini di quello che accade in diocesi. Gli esercizi spirituali, una cosa da giovani? Non ci credete? E guardiamo insieme che invece è proprio così. A cosa pensa la maggioranza della gente se si dice esercizi spirituali? Al silenzio, al fumo delle candele, magari a un'età non più giovanissima. E invece no. Oggi sono disponibili su YouTube, si scaricano sul cellulare o l'iPod e su Facebook si lasciano commenti e messaggi. Almeno a Milano va così. E sono moltissimi i ragazzi che per tre sere hanno fatto, come si dice appunto, gli esercizi spirituali e migliaia quelli che si sono collegati seguendoli virtualmente. Ci siamo e si vede anche da queste serate, dalla partecipazione. E continuano ad arrivare nella Basilica di Sant'Ambrogio che alla fine non riesce nemmeno a contenerli tutti questi giovani che giungono da tutta Milano per gli esercizi di avvento promossi dalla diocesi. Con la meditazione del vicario episcopale per la pastorale giovanile, Monsignor Severino Pagani. Sono proprio invincibilmente costretto al futuro. Come se qualcuno mi tendesse una mano. Come se mi chiamasse. Come se mi aiutasse ad attraversare un guado pericoloso e difficile. Poi il silenzio si fa ancora più attento quando arriva anche il cardinale Tettamanzi che cita il Papa. Se avrete l'audacia di credere alla santità sarete il tesoro più grande della vostra chiesa ambrosiana che si è edificata sui santi. E parla dell'immagine dell'albero della vita e della porta della fede. Emblematiche nella sagrada famiglia di Gaudì. Simbolo di ventenni radicati e fondati in Cristo. Saldi nella fede come si intitolavano quest'anno questi esercizi. Eminenza, questi giovani le vogliono bene? Diciamocelo. Loro mi vogliono bene e mi fa un mondo di piacere tutto questo ma io vorrei dire che è con tanta umiltà però e che è maggiore il bene che io ho nei loro confronti. Una segnalazione adesso. Rimaniamo in ambito giovanile con l'Università Cattolica e la presenza venerdì 26 novembre alle ore 9.30 appunto presso la sede della Cattolica Largo Gemelli 1 a Milano dell'Arcivescovo per il novantesimo di fondazione dell'Istituto Giuseppe Tognolo. Adesso spettacolo perché dopo il trionfo quest'estate della prima mondiale della rappresentazione i Promessi Sposi un'opera moderna proprio questa opera tornerà a Milano dal 14 dicembre. Noi abbiamo intervistato il regista Michele Guardì. Ecco Milano la grande macchina del Duomo Bianca Grande e con... I Promessi Sposi tornano appunto a Milano dal 14 al 30 dicembre al Teatro degli Arcimboldi. Qual è la sua emozione di regista? Beh, tornare in questa città che è una città che io amo con il cuore con la mente e è una città che mi ha dato un grande successo a San Siro quando abbiamo fatto la prima di questi Promessi Sposi e tutta la compagnia ritorna esattamente com'era. I Promessi Sposi hanno avuto anche un significato importante si è aiutato il Fondo di Solidarietà Famiglia Lavori istituito dal Cardinale Tettamanzi per dire che i Promessi Sposi sono anche un'opera che parla di fede di speranza e di carità. Ma è bellissimo nel volume del Cardinale Tettamanzi la citazione che lui fa di Renzo che pur avendo pochissimi soldi in tasca aiuta un povero che ha bisogno del suo aiuto ed è bellissima questa iniziativa del Fondo Solidarietà che io amo perché non dice aiutiamo i poveri dice ridiamo dignità alle famiglie è una grande cosa che io ho sostenuto e continuerò a sostenere. Questa Milano sa rispondere ai grandi momenti di difficoltà penso allo splendido momento della pioggia alla fine dell'opera dei Promessi Sposi quasi una pioggia che libera dal male. Ma è un momento bellissimo che io ho voluto creare da regista e da autore su questo palcoscenico e anche agli arcimboldi ci sarà la pioggia vera è la prima volta che in un teatro di uno spettacolo di intrattenimento che poi quello anche è la pioggia vera e l'ho voluta perché ha un significato preciso l'uomo che deve tornare a essere quello che era una persona pulita come era quando è nata. A completamento dell'informazione voglio ricordarvi che sono previsti sconti per over 65 e under 25 del 20% e sempre uno sconto del 20% per gruppi parrocchie enti associazioni sono già aperte le prenotazioni potete consultare il sito www.ticketone.it e ancora una segnalazione per noi perché abbiamo il cardinale Tettamanzi sarà a Niguarda per la visita pastorale che concluderà nella parrocchia di San Dionigi in largo San Dionigi in Prato Centenaro 1 celebrazione conclusiva della visita pastorale al decanato di Niguarda e ora parliamo di politica perché sono al via gli incontri di formazione politica dei circoli Dossetti con la presenza per il primo appuntamento di Romano Prodi il senso dell'iniziativa nelle parole del presidente e fondatore Giovanni Bianchi a cui abbiamo chiesto con il titolo della serie di quest'anno se è possibile sbloccare la democrazia e se c'è etica e responsabilità nella politica se non credessimo possibile non continueremo a fare i corsi del Dossetti il quale ci ha insegnato che il problema per la politica è occuparsi sì della cronaca ma soprattutto della storia e quindi avere presente la fase avere un punto di vista sulla fase questa fase chiede che la democrazia sia sbloccata la diagnosi che noi facciamo come Dossetti e che purtroppo siamo di fronte a un ceto politico che pur di perpetuarsi rischia di non candidarsi ad essere classe dirigente e allora avere un personaggio del calibro di Romano Prodi con la sua esperienza è un modo per avere un punto di riferimento del quale c'è bisogno che vuol dire anche la fiducia della gente e avere un punto di vista il corso parte con Romano Prodi esattamente per queste ragioni siamo ora al momento della parola di Dio in questa seconda domenica di Avvento Ambrosiano poi il breve commento che è affidato a Monsignor Mario Delpini che è vicario episcopale della zona pastorale Sesta lettura del Vangelo secondo Luca nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea Erode tetrarca della Galilea sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa la parola di Dio venne su Giovanni figlio di Zaccaria nel deserto egli percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati come scritto nel libro degli oracoli del profeta Esaia voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri alle folle che andavano a farsi battezzare da lui Giovanni diceva fate dunque frutti degni della conversione le folle lo interrogavano che cosa dobbiamo fare rispondeva loro chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero maestro che cosa dobbiamo fare ed egli disse loro non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato lo interrogavano anche alcuni soldati e noi che cosa dobbiamo fare rispose loro non maltrattate e non estorcete niente a nessuno accontentatevi delle vostre paghe poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo Giovanni rispose a tutti dicendo io vi battezzo con acqua ma viene colui che è più forte di me a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo le domande avvento è il tempo delle domande la domanda significa che l'inerzia non è obbligatoria significa che la rassegnazione alla concatenazione delle coincidenze non è un destino la domanda significa che c'è nell'uomo la possibilità di interrogarsi sulla responsabilità delle sue scelte sulle diverse alternative che si propongono ecco l'avvento è il tempo delle domande e coloro che si rivolgono a Giovanni Battista gli chiedono che cosa dobbiamo fare la domanda dunque è sulle scelte che qualificano la vita delle persone è sulla responsabilità di dare una fisionomia una qualità al proprio mestiere alle proprie responsabilità che cosa dobbiamo fare quelle che si rivolgono a Giovanni Battista dicono anche che la domanda esprime una fiducia c'è qualcuno che mi ascolta e c'è qualcuno che può darmi una risposta la domanda dunque è anche una professione di fede che cosa dobbiamo fare dicelo tu che vieni in nome di Dio così si rivolgono i contemporanei a Giovanni Battista però la domanda non è la richiesta di una ricetta non è come pretendere che qualcuno possa fare le scelte al tuo posto la domanda piuttosto è il desiderio di un accompagnamento è la presunzione che qualcuno può aiutarci a discernere quello che poi rimane la nostra responsabilità che cosa dobbiamo fare ecco l'avvento questa domenica d'avvento ci invita a rivolgere lo sguardo a Giovanni Battista precursore per comprendere che lui può accompagnarci fino a Gesù fare quelle scelte che ci rendono disponibili ad accogliere Gesù con la parola di Dio siamo giunti alla conclusione del nostro programma e allora vi aggiorno sul fondo di solidarietà famiglia lavoro che ha raggiunto la cifra di 9 milioni 607 mila euro con contributi di privati pari a 4.558 come contribuire lo state vedendo in questo momento vi segnalo anche che è attivo un sito a cui potete collegarvi www.fondofamiglialavoro.it troverete le indicazioni per l'iniziativa doniamo il pacco di Natale al fondo famiglia lavoro bene ora è davvero tutto io vi do appuntamento come sempre alla settimana prossima e alle repliche su Telenova 2 il mio saluto più caro davvero a ognuno di voi a presto allora e grazie per averci seguito arrivederci a presto